FAMILA SCHIO FAMILA SCHIO Raffaella Masciadri Buonasera Buonasera a tutti L'abbiamo vista alzare la coppa Raffaella adesso invece Ha portato solo la medaglia Ma insomma noi ci accontentiamo Della medaglia Eccola qui Primo posto per Schio Per te non ti chiedo neanche Quanti scudetti hai vinto Abbiamo perso il conto Tu l'hai fatto bene invece Quanti sono? 11 personali 11 scudetti E quinto con Schio Su 13 finali giocati Esatto Una media altissima Fortunatamente sì Non c'è stata partita Contro Luca Tre finali comunque combattute Luca squadra scorbutica Però su una schio Ha dimostrato Che era davvero la dominatrice Di questo campionato Di questa stagione In Italia almeno Sì assolutamente La finale Quella contro Luca Era la finale annunciata Praticamente già Durante tutto il campionato Noi avevamo la pressione Di dover vincere Questo scudetto Quindi è stata Un'annata Tosta Da punto di vista Mentale Però Insomma Credo che ce lo siamo Meritate Perché alla fine Abbiamo giocato Un bel basket Siamo state Imbattute Nei playoff E soprattutto In queste tre partite finali Ci siamo Veramente divertite E siamo riusciti A ottenere Questo bellissimo Traguardo Supercoppa Coppa Italia Scudetto Qui Non so Avete Delle cannibali Si direbbero Usando un termine Fedele al ciclismo Ma Vincere così tanto È difficile sicuramente Ma Le motivazioni Non vi sentite Una come te Che ha vinto tantissimo Dicevi 11 scudetti Hai ancora voglia Di vincere Di misurarti Personalmente Sì naturalmente Perché comunque Ogni annata È diversa dall'altra Un po' per il gruppo Un po' appunto Per lo spirito stesso E comunque Si acquisisce Esperienza E perciò Giustamente come dicevi tu Ogni anno Bisogna trovare Nuove motivazioni Io personalmente Finché avrò motivazioni Andrò avanti E cercherò di Di giocare Di sfruttare al meglio La mia carriera È logico che La motivazione principale È quella di Di vincere ogni volta Che si entra Sul parquet Quindi Dietro c'è tanto Lavoro C'è tanto Sacrificio Però comunque Tutto questo Viene poi ripagato Alla fine Con le vittorie Perciò È bellissimo Vincere Quindi La motivazione principale È questa Ogni anno Poi vediamo Il presidente Cestaro Che è davvero Comunque Un'anima Per il basket Sì La grande passione Anche per il calcio Con il vado Però sappiamo Il primo amore Non si scorda mai Il suo amore È stato Schio Il Famila E vi è sempre Comunque stato vicino Sì sì Assolutamente Lo scudetto La mia dedica Va naturalmente A lui Perché comunque Il basket femminile Non potrebbe esistere Ancora di più Naturalmente a Schio Senza Il Patron Cestaro Con tutti i sacrifici Che fa Ci è sempre stato vicino Non ci ha mai mollato Ma soprattutto Dal punto di vista Umano Perché è una È una grande persona Cerca Cerca E vuole Sempre il meglio Per noi Quindi Ripeto Tutti questi scudetti E soprattutto Quello di ieri È tutto quello Che noi possiamo fare Per ripagarlo Dei suoi Era anche in discoteca A far festa Sì sì Perché poi A lui piace un sacco Far festa Quindi Vinciamo Soprattutto per il post Vedo Vedo Che vi siete divertiti Allora Visto che abbiamo citato Il presidentissimo Andiamo A sentire Marcello Cestaro Al microfono Del nostro Mauro Dalla Pozza Quinto Scudetto La sua gestione Ma Mai vista Tanta gente così Un altro Nel successo È vedere Il pubblico Che quest'anno È stato sempre pieno Il palazzetto Oggi stracolmo Ma direi che effettivamente Come diceva Quest'anno Il pubblico Ha seguito Come non mai La squadra Ed è stato effettivamente Il sesto uomo in campo Come si suol dire a volte Perché anche Nelle partite Più modeste È sempre stato presente Quindi Una partita dei baschi E una partita Indipendentemente Dalla quale squadra Si possa incontrare È stato un anno difficile Perché chiaramente La Coppa Italia All'Eurolega Che già Sicuramente Ha fatto parecchio Qualche infortunio Anche Però alla fine È valso Quello che Voglio dire Il grande cuore Di questa ragazza Che non ha mai smesso Quest'anno In particolare Novo set Ha creato un gruppo Veramente interessante Un gruppo Che ha capito Ognuno L'esigenza Dell'altra Sono sempre Da aiutate E il risultato È questo qua Quindi grazie a loro Grazie a Lasi Altobelli A tutti i vari Dirigenti Collaboratori Che state tanti E però Effettivamente Il grande pubblico Che ci ha portato Fino a questa meravigliosa Serata Voleva avere un passetto Più grande Così mi viene da dire L'ho appena detto Il sindaco Questo Presidente Il presidente della federazione Gianni Petrucci Ha detto Tenetevi stretto C'è stare Grazie Ma Passa gli anni E quindi Io sono uno Chiaramente Non sono da solo Perché Non si arriverà A questi risultati Da soli Però Sicuramente La cosa si fa un po' più Difficile per i ghianni Sono quelli Però Lasciamo stare Le problematiche Di questi momenti Pensiamo A risultati da stasera E con la speranza Di poter Proseguire E magari Ottenere ancora Risultati di questo tipo Ha sempre fame Anche il presidente Cestaro E poi Ci pensate voi Ad addolcire la pillola Perché nel calcio Non arrivano soddisfazioni Lo dico piano Perché noi a Vicenza In questi tempi Non siamo Certamente di meno Anzi Viviamo momenti Molto peggiori Fortuna che ci sono Le ragazze Di Schio Che ci fanno ancora sorridere Eurolega È stata accennata Cosa manca A Schio Per competere Ad altissimi livelli Perché Ci sono arrivati Le finalette Per due anni di fila Però Poi lì Finisce la corsa Di Schio Inevitabilmente Direi Sì È logico Che per arrivare Diciamo Sul podio Comunque A giocarsi la finale Adesso come adesso Manca il punto di vista economico Perché comunque A livello europeo Non si può competere Con le corazzate russe O turche Però Credo che Come ha dimostrato Burge Quest'anno In finale Basta Quella determinazione Quella volontà In più Quello spirito di gruppo Forse che a noi È un po' mancato In quella settimana Di finale di Eurolega Certo non è Non è stato Un appuntamento Da buttare via Perché comunque È stato difficile Arrivare alle finali E soprattutto Arrivarci due anni consecutivi Però Naturalmente Potevamo fare Un altro tipo di figura Certamente Si trovano Squadre Toste E noi anche fisicamente In quella settimana Non è stata Diciamo La settimana migliore Dell'anno L'avessimo giocata Forse questa settimana In questo periodo Avremmo ottenuto Risultati diversi A vostra Diciamo Attenuante Diciamo È comunque stata Una stagione Densissima Di appuntamenti Per voi Trasferte molto Molto lunghe È comunque stata Una stagione Faticosa Sì sì Questo sì Perché comunque Arrivare Siamo arrivate tutte quante Parecchio Stanche Fisicamente E mentalmente Perché è una stagione Impegnativa Giocare il campionato La Coppa Italia L'Eurolega Con trasferte Sempre più Più lunghe Però insomma È la nostra vita Sappiamo il nostro lavoro Sappiamo quello che ci aspetta Ripeto La forza del gruppo E lo spogliatoio Secondo me è stata La caratteristica importante La caratteristica decisiva Che ci ha portato Alla vittoria Della Supercoppa Della Coppa Italia Dello Scudetto E la partecipazione Alle finali Di Eurolega E adesso sentiamo Un altro degli artefici Di questo Scudetto Ovvero Coach Lasi Sempre al microfono Di Mauro Dalla Pozza È un trionfo Che insegui Dall'anno scorso Eh sì Dall'anno scorso Quest'estate Ci abbiamo costruito Una squadra Di grandi ragazze Di grandi ragazze E per tutto l'anno Si sono sacrificate Ci siamo trovati A essere la squadra Più forte E però Dovevamo dimostrare Sul campo Non è facile Essere la più forte E dimostrare sul campo Con tutte le disaventure Che abbiamo avuto I problemi Che abbiamo avuto Abbiamo perso Una sola partita Il campionato Io devo dire Brave a queste ragazze Perché hanno sempre lavorato Con il massimo impegno Massima serietà E questo è il coronamento Di Diciamo È il poker Di quest'anno Perché Perché avete vinto tutto Mi ha vinto tutto Anche l'Eurolega Per noi È un piccolo Scudetto Quindi Siamo veramente contenti Maurizio Hai vinto Ha fatto poker Adesso Insomma L'amore per Schio L'anno prossimo Altri progetti Godiamo questo Scudetto Adesso ci godiamo Questo Scudetto Perché Era giusto Questo pubblico Meraviglioso Si riprendesse Lo Scudetto Che l'anno scorso Non siamo riusciti a dargli Perché l'anno scorso Non ci siamo Ci abbiamo provato Ma non ci siamo Non c'erano le condizioni Per portarlo Quest'anno c'erano E l'abbiamo voluto portare Avete il concetto Pittosto male Col Celagio Avete state voi E eravate i tifosi Voi? No siamo state noi E d'altronde Il primo Scudetto Si paga Si paga L'anno scorso Si paga a pegno Diciamo lui arrivava dal basket maschile Prima esperienza con il femminile È stata comunque una stagione positiva Hai trovato diversità Nell'approccio che ha avuto Lasi Che appunto veniva dal basket maschile Rispetto agli altri allenatori che ha avuto Oppure? Ma guarda Tecnicamente bene o male Le cose sono quelle Il gioco è quello È logico che nel settore femminile L'approccio con le donne è sempre un po' più particolare Quindi diciamo che ha dovuto studiarsi un po' La psicologia femminile Però da questo lato C'è stato anche l'aiuto da parte della società Ma anche del nostro vice allenatore Giustino Altobelli Che è stato molto importante Mi hai anticipato Perché ti volevo chiedere Di spendere una parola per Giustino Perché è una colonna importantissima per Schio Sì assolutamente Io ho avuto la fortuna di averlo a mio fianco In tutti questi anni In cui sono stato qui a Schio Ed è un'ottima persona Naturalmente un grande allenatore Perché alla fine Forse è riduttivo chiamarlo vice allenatore Perché comunque ha immense capacità tecniche e umane Quindi ha aiutato molto Maurizio in questi due anni E credo insomma che si meriti tutta la stima Non solo mia ma di tutta la città di Schio Ecco abbiamo sentito la domanda Che ha fatto Mauro sul futuro di Lasi Punto interrogativo ancora Io la faccio a te Il futuro di Raffaella Masciadri? Il mio futuro è ancora a Schio naturalmente Al di là che Non ci sono dubbi su quello? No 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 Al di là che appunto ho un contratto per altri due anni Ma ormai insomma Ogni tanto me la faccio la domanda Dove voglio andare di meglio se non a Schio? Quindi sono felice qui Mi sono tolta tante soddisfazioni Ho vinto tanto con la maglia arancione Siamo la società migliore in Italia Una delle società migliori in Europa Quindi sto volentieri qui Ripartire da questo gruppo Magari con qualche innesto Per poter magari anche dire la vostra anche in Europa Sì me lo auguro Spero che la società riesca ad aggiungere i tasselli che ci servono Naturalmente il gruppo forte sarà quello delle italiane Che ci sono state quest'anno E naturalmente credo di qualche straniera Anche se naturalmente spererei che la squadra rimanga la stessa Però l'importante è appunto mantenere quel nucleo di 5-6 giocatrici In modo che insomma si affronti l'anno futuro Con già delle solide basi di partenza Prima fuori Londra abbiamo detto rompete le righe Non è ancora arrivato Nonostante la stagione ormai sia finita Perché penso che state preparando una grande festa Sì sì Perché abbiamo visto il palazzetto gremitissimo Probabilmente ci sarebbero state molte più persone Che volevano venire a vedervi Quindi ci sarà una grande festa a schio immagino Sì sì come gli altri anni Ci sarà una festa con i tifosi Con naturalmente la società Credo di poter accennare che possa essere giovedì Se non giovedì super giuno di questi giorni In settimana qualcosa succederà in quel dischio Sì 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 assolutamente Anche perché abbiamo ancora voglia di festeggiare Ieri la notte è stata lunga Ma insomma non si può festeggiare solo poche ore dopo lo scudetto Bisogna continuare Anche perché come dicevo Davvero è stato un colpo d'occhio splendido ieri al palazzetto gremito Come forse non mai Ma infatti il mio colpo d'occhio appena è entrato in campo È stato forte, è stato emozionante Perché credo che un palazzetto così pieno Di averlo visto solo nei primi due anni Che sono stata qui a schio Nonostante naturalmente i tifosi scledensi Non abbiano mai mancato del loro appoggio Però un palazzetto così pieno non lo vedevo da tanto tempo E allora appuntamento con la festa di schio Del Famila Basket in settimana Ovviamente ci penserà Mauro dalla Pozza durante il Telesport A dirvi quando e come fare per partecipare a questa grandissima festa Noi facciamo ancora tanti complimenti a Raffaella Masciadri Complimenti che porterai ovviamente a tutto il gruppo Assolutamente A Coach Lasi, al vice Giustino Altobelli Che ci ha fatto compagnia Raccontandoci le vostre trasferte In questa splendida stagione E ancora grazie Raffaella Masciadri Grazie mille Vi aspetto tutti alla festa Perché abbiamo voglia di festeggiare ancora con tutti voi Grazie E allora ci saremo Grazie mille